Cari fratelli e sorelle, il mandato missionario riporto da Gesù a tutti i suoi discepoli ad andare come agnelli in mezzo ai lupi è per caso un invito ad essere dei deboli, a farsi fatti propri, ad accettare passivamente le ingiustizie. Niente affatto. Al contrario, al discepolo agnello Gesù conferisce lo stesso suo potere, quello più grande dell'amore, capace di trasformare il lupo in agnello, il fallito in un campione, il figlio delle tenebre, il figlio della lucella. Grazie.